sunset overdrive è la nuova esclusiva firmata insomniac games per xbox one un'avventura in terza persona con un marchio di fabbrica indelebile quello di uno stile prepotente suggestivo e sopra le righe e di un tipo di azione senza compromessi ed ecco una città infestata da esseri umani trasformati in mutanti dalle bibite della ditta fisco e il nostro eroe ha il compito di disinfestare la zona una delle particolarità del gameplay vede nel grinding ovvero nella capacità di scivolare sulle superfici seguendo nella conformazione una chiave decisamente portante il protagonista dovrà quindi saltare e scivolare senza sosta mentre cerca di eliminare i mutanti nel modo più stiloso possibile al fine di incrementarne la relativa barra e sbloccare nuove abilità l'arsenale a disposizione davvero incredibile fuori di testa completa il divertimento il multiplayer cooperativo ed una cosmesi che sfrutta appieno la potenza di xbox one con texture in alta definizione deflagrazioni incredibili ed una pulizia dell'immagine davvero next gen sunset overdrive è un titolo imperdibile per tutti i possessori di xbox one